L'obiettivo è quello di condividere anche con la Catalogna, che peraltro è uno dei quattro motori d'Europa, che condivide con la Lombardia e con noi questa esperienza a livello comunitario, quel documento che noi già abbiamo presentato in Europa, che chiediamo che sia un addendum che modifica sostanzialmente gli obiettivi dell'Expo e che parla appunto di lotta alla contattazione alimentare come uno degli obiettivi politici dell'Expo 2015.